buonasera ciao youtube io credo di essermi bloccato proprio inizio sì, mentre dicevi devo essermi bloccato proprio inizio molto bene, molto bene la gente ha capito lo stesso il senso era quello ciao Ace ciao Ace ciao Mago buonasera Mago ciao Ale io ringrazio Streamyant per aver funzionato benissimo fino adesso e adesso no, mi sembra giusto appena hai cliccato live, tipo si è piantato veramente assurdo una puttana allora tanto per chi ci recupererà su youtube mettete mi piace commentate, condividete fate qualsiasi cosa vi ricordiamo che ci potete vedere anche tramite in live adesso su twitch tramite TutovRestling siamo nella home quindi ci potete recuperare anche lì se poi volete entrare direttamente su twitch a scrivere fate tranquillamente e cominciamo a breve questa puntata che però amici è l'ultima puntata della review di Raw esatto abbiamo questa piccola news ci prendiamo una pausa dalle review WWE lasciamo solo Up Next in pratica torniamo un po' alle origini a quello che era qualche mese fa ormai un sacco di mesi fa in realtà c'era solo Up Next dimmi sì sì no scusa scusa no no vai vai torniamo a fare solo una live a settimana per NXT e mentre invece Raw e SmackDown aspettiamo un attimo probabilmente facciamo un recappone però adesso cerchiamo di organizzarci dopo qualche sem�inia tiriamo un attimo i rei a casa ci fermiamo un attimino continueremo comunque a fare delle live ma non faremo più delle review porteremo qualcosa di nuovo non è quello è che sia per noi che per voi abbiamo capito che è meglio fare solamente quelle di NXT che forse essendo un po' più diciamo di nicchia viene un po' più seguito e però SmackDown visto che parliamoci chiaro ci sono 70 miliardi di modi per vedere ovunque per le review di Raw e SmackDown poi studiamo cosa fare come diceva Mickey faremo un po' una invece di fare le review di Raw e SmackDown facciamo una una sorta di tipo notiziario della settimana dal WWE comunque in ogni caso da poter parlare un po' di tutto che risulta anche più interessante per voi comunque alla fin fine e anche per noi è mago lì te non mi preoccupa ecco 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 mentre cominciamo con certo che cominciamo se però io tengo i banner di Ugo De Lucia sarà difficile cominciamo mi sa che non iniziamo ok ti sento segmento dove meno male segmento dove le tre quelle che dovrebbero essere le tre facing in teoria mi lasciano di un controllo che poi arriva e poi come dicevo porta a questo da chi contro io Lita e Trish però si parla i rumors dicono che una delle due dovrebbe turnare il dopo Wrestlemania o proprio durante Wrestlemania Lita e Trish non si stanno comportando proprio da face 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 ecco tendenzialmente no quello no e posso dire che non vorrei un turn nel senso che prima loro dovrebbero fare Wrestlemania e poi pian piano andare allontanarsi non è che non farsi vedere più però ciao Luca ma si dice che Trish duri fino a Summerslam molto probabilmente ok bene mi fa piacere come cosa no e comunque il segmento è stato anche carino niente di eccezionale ma comunque carino è un po' per buildare questa faida che ha un po' bisogno di costruzione perché ok c'è stato il riconfondo ok che hanno attaccato nel backstage ma mancava qualcosina magari con questo c'è un minimo di costruzione in più vabbè si vendeva già abbastanza da solo come match sì tra l'altro anche parliamo anche del match dopo così facciamo tutto un pacchetto unico match dopo che vabbè mi dirai se metti due lotatrici bravi a lottare l'incontro riesce bene e infatti comunque è riuscito bene fortunatamente hanno preso le due migliori dei due team scontratevi ed è venuto bene effettivamente io non lo so da quando ci sono le damage control è magari un'idea che mi sono fatto io quindi non c'entra nulla io non so perché mi sono fatto l'idea che sui oscai ci puntino stavolta non lo so è quella che lotta di più in singolo praticamente sì per quello quindi qualcosina in più sta facendo ovviamente essendo in quella stable non vince neanche tipo mi piace bene però va bene cioè l'imparata è anche farsi vedere far vedere che può può far bene può dare il suo ci sta è meglio vederla vincere però ci sta anche comunque già vederla in puntata già non mi dispiace no non mi stupirei se la mettessero proprio come diciamo main eventer che prima o poi le dessero anche il titolo cioè non lo so non lo so è una mia sensazione e mi sembra che abbiano preso una strada diciamo così potrebbe essere anche perché ad esempio ora c'è Becky Lynch in questa faida ad esempio in futuro tra anche un mese due mesi così io skype può anche dire vabbè ma l'incontro l'abbiamo fatto a Raw ad esempio hai faticato metti che Becky Lynch abbia il titolo cose sceme comunque niente di sì sì può essere un aggancio però un match poi anche in futuro sì sì assolutamente ci fanno vedere poi nel backstage un segmento di urno dove si trova lì stava parlando con Cathy Kelly e interviene Mustafa Lee a interromperlo Mustafa Lee che da poche settimane sembra un po' illa questo atteggiamento che non si capisce è una gimmick horrenda quella che è andato a Mustafa Lee è veramente inguardabile quando gli ha parlato sembrava lui tra l'altro quindi ci fanno vedere ci danno il gancio per l'incontro dove Seth Rollins poi batte Mustafa Lee facilmente in tempo zero una stompata mentre la pace al paletto Mustafa Lee è buon basta posto finito ha liquidato Mustafa Lee tutto comunque ovviamente Mustafa Lee nel pomeriggio Seth Rollins parla più che altro di Logan Paul dando praticamente dando il favorito Logan Paul per Mustafa Lee comunque di fatto il concetto è quello che Logan Paul riesce poi a battere Seth Rollins si hanno fatto molto sta cosa nel pomeriggio è successo questo poi anche un segmento dopo con l'arena vuota mi veniva empty arena non mi veniva in italiano vabbè perché è posto non so qualcosa di un po' diverso non so se c'era qualche motivo se dovevano magari fare qualcosa subito dopo non so come a volte magari questione di tempo loro ci sta anche quello esatto preso nel pacchettone e niente cosa vi diciamo di Seth Rollins contro Mustafa Lee ve l'abbiamo già detto in due secondi è un modo per far vedere Seth Rollins visto che deve andare contro Logan Paul e quindi ha fatto non c'era esatto e si arriva così al segmento che aspettavamo tantissimo il peso tra Loznar tra Lesnar e HOMOS e HOMAS allora allora di fatto non c'è stato poi il peso hanno MVP e HOMOS sono entrati con MVP che ha subito dichiarato guerra a Lesnar e Lesnar entra e prova ad attaccare HOMOS e HOMOS di fatto vince questo screzio anche se non ha fatto molto HOMOS però quando parlava prima MVP giustamente diceva che con lui Lesnar non può fare né i suplex né la F5 questo vuol dire che vedremo nell'incontro sia il suplex che la F5 almeno uno lo fa almeno un suplex lo fa di sicuro i primi faranno vedere che non ce la fa poi uno lo fa sicuramente e subito dopo seguito dalla F5 che va a chiudere l'incontro e l'ho convinto vincesse HOMOS ma invece l'ha comandato il tutto mi sa che fanno vincere Lesnar ma poi questo ne parleremo e allora i Wagen nel wrestling fanno sempre schifo più che altro perché sono anche senza senso totale in uno sport dove non c'è bisogno del peso esatto senza senso totale qua perlomeno cioè ci stanno provando a fare qualcosina con HOMOS a parte che sembra che si stiano dimenticando che avresti il media scorso è andato contro l'Ashley cioè sembra quasi al debut HOMOS come lo stanno trattando sì quello sì e secondo me non si sta neanche trovando moltissimo con Lesnar non so li vedo non si azzeccano molto lui fa molta fatica anche solo semplicemente ciao Cliff semplicemente a buttarlo fuori dal ring non vengono bene quelle cose che dovrebbero essere semplici è vero hanno la settimana scorsa o due che cos'era hanno bocciato l'impossibile soprattutto HOMOS stavolta di nuovo Lesnar che addirittura ha scivolato prima di farlo cioè è nato malissimo questo incontro proprio sì poi magari fanno il match anche carino ho i miei dubbi diciamo che poi la costruzione non è stata delle migliori perché proprio i segmenti sono venuti male secondo me cioè ci hanno provato a costruirlo ma non è andato storto qualcosa io ho molta paura sul discorso Lesnar che deve alzare HOMOS non tanto perché allora le Five la fa appunto lo sappiamo è forte gliela fa il discorso dei German Suplex è che HOMOS è molto alto quindi non deve farlo magari dal centro del ring lo sanno sicuramente però bisogna deve spostarsi un po' e risulterà macchinoso da far schifo cioè io non ci punterei molto sul German Suplex più che altro perché agli occhi del pubblico risulta proprio macchinoso sì e c'è un'altra cosa che mi fa paura cioè che HOMOS non ha mai preso un Suplex quindi c'è il rischio che magari non sarà anche bene come cadere come a tutti dire bene il colpo ma anche perché essendo poi così alto ma Lesnar stesso ce la fa come peso a parte che come dice Taz non è mai una questione di peso German Suplex ma è soltanto tecnica è quello sono del mestiere sono loro e lo sanno loro ma è proprio che è tanto alto non è la percezione magari di come cade sì che per carità si stanno allenando adesso lo staranno provando ci mancherebbe però devi trovare anche la percezione per non fargli male proprio soprattutto dunque proprio adesso si stanno allenando cioè in questo momento in questo momento che stiamo parlando sì 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 eh beh certo adesso no l'ho letto come messaggio Brock ah ok Brock mi ha appena detto sto allenando e quindi comunque non si sono veramente pesati niente no non sapremo mai quanto pesano non ci lo diranno mai aspettiamo con ansia proprio il loro incontro poi questo ecco questo è stato l'incontro un po' alla cazzo di cane della puntata tanto per occupare quei minuti gli ste profits insieme a brownstrom e ricochet configono la fuck academy e i viking riders mi fa molto ridere che mettono sempre la fuck academy tra gli ill che praticamente c'è Chad Gable Catifato e Homo Otis anche basterebbe metterli dall'altra parte e nessuno si accorge se li mette dalla parte dall'altra perché loro di base sono face ma vengono dipinti come ill e soprattutto non si è visto non si è visto perlomeno non sono stati accompagnati dalla MMM esatto c'era Maxine Maxine nel backstage che osservava il match mentre Otis si stroppava la maglietta bello da vedere qualcosa che è molto molto quindi continua un po' questa questa storia che probabilmente invitiamo anche un po' Astralmania potrebbe essere anche il modo per allontanare gli half academy tra i possibili vincitori che potenzialmente loro possono vincere sono molto bravi e funzionano ma stanno puntando molto su Bonstroman e Recochet quindi la strada è quella poi come lo vediamo anche in un incontro dopo hanno portato molti atleti di SmackDown è stato quasi diciamo un interbrand show questa notte comunque tendenzialmente qua i Viking Riders piuttosto che Strowman Enricochet comunque li hanno portati molti può voler dire niente quel fatto che c'è il Wrestlemania sono tutti insieme e quindi li portano senza problemi magari può voler dire che forse dopo il Wrestlemania ci sarà un ribrand da parte di tutte e due non l'hanno detto quindi sono soltanto congetture che mettiamo però potrebbe essere o magari è semplicemente perché SmackDown è proprio attaccato a Wrestlemania giorno prima quindi magari fai vedere qualcuno anche a O attire un po' di più la scelta sì che ora non so se non so se ho registrato è per quello è perché sono nella stessa città se non sbaglio sì perché fanno tutta la settimana lì mi sembrava di aver capito penso di sì quindi no non so non ho letto nemmeno io se è stato registrato ciao Giuseppe ciao non ho letto nemmeno io in chat se avete letto se è stato registrato SmackDown oppure se vai in diretta normalmente comunque beh match carino questo niente di di eclatante però abbiamo un modo per far vedere le quattro coppie un po' di casino su King ha funzionato poi ovviamente come ha chiuso l'incontro Montesford comunque che ha saltato terza cosa sua solita mossa finale però è andato oltre Braun Strowman girandosi in volo e come senza vedere come cazzo ha fatto a prenderlo così perfettamente non lo so ma va benissimo quindi benvenga ha rischiato grosso ha rischiato grosso da sbagliare un minuto per sbagliare un secondo sarà Logan farà mai qualcosa io presumo di no che sia venuta solo per fare diciamo compagnia al marito e basta mi dispiace un po' perché non era un fenomeno ma funzionava no esatto poteva fare qualcosina però per come la stanno gestendo secondo me farà solo da manager manager è un parolone cioè in realtà è di a bordo e basta esatto secondo me accompagna e basta bellissima quella no bella vera bella bella è stato anche bravissimo cioè è stato anche quindi benvenga e ostintieri su ring e qua secondo me c'è la la parte negativa diciamo per Vrestelmania qua poteva essere una faida bellissima dal lato microfono eccetera e Sina però a quanto pare per i suoi impegni non ha mai potuto partecipare ora vediamo venerdì ma doveva essere oggi in teoria ieri notte Sina non venerdì e purtroppo però Sina a quanto pare non ha potuto partecipare e la faida di fatto è mancata poi sì almeno qualche segmento registrato qualcosina in più doveva fare Sina alla fine ha fatto solo il faccia a faccia che poi ha dato il via alla faida e poi la faida l'ha fatta teori da solo andando contro gli straight profits facendo dei segmenti da solo e la faida da solo non funziona cioè puoi essere proprio quanto vuoi ma no poi poi l'incontro per quello che deve dare quell'incontro riuscire anche bene sappiamo che Sina sarà ipertifato quindi cioè non è tanto quello che però appunto ti ritrovi teori che sappiamo che è molto 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 bravo al microfono ai Sina che comunque se c'è una cosa che sapeva fare bene è quella e potevi avere una faida comunque fatta bene cioè c'è stata di più quella dell'anno scorso tra Kevin Owens e Steve Austin per assurdo che Steve Austin anche se non era mai apparso però perlomeno lanciava dei segnali perlomeno Kevin Owens cercava i segnali da qua non hanno fatto niente di tutto questo quindi peccato perché il potenziale c'era tantissimo sì decisamente anche per diciamo il fatto che comunque teori è molto legato a Sina cioè lui è probabilmente lì perché c'è stato Sina quindi potevano anche riprendere tutta questa storia invece non hanno preso niente a posto va bene il match vende sicuramente perché è un ottimo opener anche se non sarà il match della vita però un ottimo per la scuola per Castlemania quindi sì dovrebbe essere cioè loro non l'hanno detto ma dovrebbe essere opener da quello come avevano detto in un just chatting tipo dopo Smackdown avevano già letto che era l'opener poi non l'ho letto da nessuna parte però mi fido di quelli che erano in chat le come si dice le voci che sono uscite sono uscite questo opener e sembra che nella notte 1 non so però se notte 1 notte 2 non mi ricordo e sembra che nella notte 1 alla fine riescano a mettere Kevin Owens e Semi Zanes non si è ancora capito bene come se sarà quello il femminile fino a settimana scorsa sembrava il femminile ora sembrano loro lo capiremo e ritornando sul ring si fa prima il segmento backstage Baron Corby e Chelsea Green si lamentano qua Dan Pierce e Chelsea Green e Sonya Deville poi battono Candice Candice Le Re e Michin o Miaim se preferite Baron Corby si lamentano per tutto quello che sta cioè Chelsea Green si sta lamentando da un mese datele il titolo chi se ne frega cioè dategli o ciao e Baron Corby si lamenta e qua di fatto poi ne parleremo dopo è stato un po' messo nella Andre the Giant Battle Royale tendenzialmente è stato un po' come poi vediamo come finisce e poi porta l'incontro e finalmente Chelsea Green riesce a vincere esatto sì allora il segmento backstage è stato mentre Baron Corby che dice a Pierce ma io sto facendo tutta questa promozione per Castlemania sto firmando autografi vendendo qua andando in giro per l'America ma in realtà a Castlemania non ci sono che è un po' quello che sta dicendo Chelsea Green da qualche settimana e Adam Pierce dice allora Chelsea Green se ti trovi una compagna visto che Piper Neven ha detto che non vuole avere niente a che fare con te si trova una compagna e vinci il match entri nel tag team showcase quello che stanno buttando in piedi mancava una coppia sapevamo che in qualche modo dove entrarci Chelsea Green avrei sperato di vederla in coppia con Piper Neven invece spunta Sonia Deville che ogni tanto arriva e la buttano dentro in cosa anche importante non riesco a capire per quale motivo e niente battono Kandisler e Michele quindi saranno la quarta coppia di questo match di coppia che io non c'ero Sabato Smackdown e mi son perso la parte in cui ne parlavate grazie WWE per avermi tolto Xayali dal match di coppia grazie grazie io ne ho parlato ho detto che almeno l'hanno fatta vedere in tv almeno quello sì però mi metti sciozzi capisco dall'altra parte c'era da taglia ma metti Mixaya lì era anche bello come tag team quindi andava anche bene come tag team e qui Cessy Green riesce ad arrivare a Wrestlemania come dice Luca assolutamente funziona funziona assolutamente e ancora Luca dice la WWE con un tweet dovrebbe aver detto che Sina teori aprirà questo l'avevo perso questo si chiama fanservice fatto male e sì purtroppo è stata gestita malissima tra i due comunque Corbin jobber mostruoso sì sì io ricordo che è l'unico che ha perso con Chat Gable negli ultimi mesi Chat Gable ha perso qualsiasi cosa ma con Corbin ha vinto no no si può dire di tutto contro Corbin tranne che non accetti il suo il suo ruolo anzi quello lo fa non fa più che bene niente da dire ci mancherebbe e continuiamo la faida invece Remirio Dominic perché qua Remistirio deve affrontare uno dei Judgement Day e affronta Damien Priest e vince vince per squalifica perché ovviamente Dominic deve dopo essere stato preso da un pugno poi di fatto a a a SmackDown si vuole vendicare su suo padre lo picchia ci praticamente ci spoilerano il finale anche se di Wrestlemania anche se era già abbastanza letto in precedenza Dominic che è ancora vivo perché per quanto comunque sia tutto scriptato quello che ha detto la settimana scorsa a sua madre soprattutto mi sa che lo pagherà caro e questo per anni non e non solamente infamico e e qui hanno portato avanti il discorso Remistirio Dominic alla fin fine si si sa quello c'è stato un po' un iniziale di Dominic che ha detto una roba sul non ti voglio come pato avrei preferito ok va bene la fai si è costruita se la se la portano avanti così e sul match c'è in realtà pochissimo da dire più che altro alla parte dopo chi viene a salvare è il misterio sono andati legato del fantasma e quindi mi aspetto un tipo legato del fantasma contro judgment day magari in qualche modo però c'è o o jazz mcdown boh o tanto Damien Priest di base no lui non ha non ha niente a fare il è l'unico che non ha niente è l'unico che non ha niente quindi potrebbe fare ma anche solo un match lui contro magari santo 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 esatto tra l'altro a proposito di judgment day hanno Finn Balor contro Edge andrà in versione Demon sì 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 con un segmento backstage una roba registrata l'hanno apparente annunciato sì tendenzialmente sì chi aveva la mamma ora ti dico soltanto il discorso di stare zitta poi legato del fantasma credo sarà Bordoring a sto punto sì a sto punto sì e non mi stupirei se magari a fine incontro Santos e Scobar vada contro Re Misterio sarebbe un po' una cosa schizofrenica face il face eccetera però non mi stupirei se poi andasse lui contro Re Misterio potrebbe avreste meni a pronostico Dominic che entra sul lato con la DIM di Eddie evitiamolo spero pare con l'NSL metallica ah ok ok questo ovviamente Edge contro Finn Balor dicono che Prista aiuterà Balor e Gangrel 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 volevi dire lui che cosa centrerebbe lui lo tirano fuori e lo portano per la storia del non so quanto si potrebbe avere può darsi si con Edge il Brood visto che non può partecipare Christian magari sì vediamo vediamo aiuterà Edge no può darsi tra l'altro lui è uno è un allenatore adesso ci vengono annunciati i partecipanti della Andrea Giang Battle Royale che anche quest'anno si terrà a Smackdown e non avrà Stelmania non è stato un kick off ecco lo fanno kick off non dovrebbe esserci avrà Stelmania tra l'altro in nessuna delle due serate al momento perlomeno non è stato annunciato e uh scusate è partito sbadiglione e come dicevamo prima c'era Baron Corbyn tra i partecipanti che poi di fatto è stato messo lì invece di essere messo a Stelmania più altri il concetto è più altri sì hanno fatto esatto c'è una cosa per Luca hanno fatto vedere Anderson e Gallos quindi esistono ancora così l'hanno fatto proprio solo per Luca c'era Gargano e poi in realtà il segmento si è girato tutto molto intorno a De Laia che si è trovato di dentro poi si è trovato faccia a faccia con Dexter Loomis poi si è trovato Bobby Lashley e quindi sarà quello che prenderà un sacco di mazzate D'Aia se volerà fuori in tempo zero probabilmente purtroppo sì per aprire una faida in qualche modo penso con Rick Bulls wow però al momento sono insieme quindi a sto punto lasciateli in tag tag e comedy e via e beh sì infacile è vero gli daranno il contentino per non aver fatto per non fare il Wrestlemania però io non escluderei che Lashley prenda il posto di Omos alla fine prendesse il posto di Omos non l'escludo del tutto ah dici che col fatto della della stable magari arriva sì arriva Lashley che facciano qualcosa che alla fine ci sia Lashley poi magari no niente sta portando verso questo però non non mi stupirei Randy Orton dicono che apparirà a Wrestlemania quindi l'incontro Edge contro Finn Balor secondo me è favorito e non Robert Roy secondo me andrà ad aiutare Edge contro il Judgement Day se è vero che partecipa e se no invece non farà niente e Gunter si fa vedere a Raw che batte il liber di lusso della WWE Adolf Ziegler non l'ho capita come cosa completamente a caso sì questo anche perché è un incontro che se fai in un pay per view e gli dai il minutaggio è un bel incontro è messo così cioè ciao non non serve poi Gunter ha chiamato McIntyre shimus però sì appunto non ho capito perché ne ha fatto partecipare a Raw è comunque tutta una storia Smackdown hai già fatto un buon match nel main event di Smackdown contro Butch non avevi bisogno in realtà di farti vedere ancora soprattutto perché appunto gli avversari sono a Smackdown quindi che cazzo serve andare a però vabbè ci aveva durato un minuto il match quindi in realtà non c'è niente da dire sul match mi verrebbe da dire che mancava del personale cioè magari magari l'incontro di Dov Ziegler doveva essere contro un altro non ha potuto e hanno messo Gunter all'ultimo che magari era lì non lo so io la vedo un po' potrebbe essere è un po' strano non avere personale tipo 5 giorni prima di Vastermania però magari non volevano affaticare qualcuno lui e no ti stavo per dire magari rifacevano Mustafali contro Dov Ziegler ma Mustafali era contro Rollins quindi non lo so è l'unica o invece l'ha messo così alla cazzo di cane come probabile che sia probabilmente siamo noi che ci stiamo facendo un sacco di pare in realtà sì che poi è tutto molto più facile di quello che dice è proprio le cose più basilari noi andiamo a cercare e arriva così all'interno di Rollins come prevedibile sconfigge solo Sicoa quando ne parlavate venerdì sabato scusami per la review di Smackdown io avevo scritto che secondo me con il discorso che Colli Rozza aveva puntato tutto sul fatto che Solo Sicoa non era pronto eccetera secondo me doveva scosciarlo e invece anche per dare un segno a Roma Reigns comunque secondo me avrebbero dovuto farlo scosciare e invece non l'hanno fatto hanno fatto un match anzi sofferto che proprio fino all'ultimo era non mi sarei stupito la vittoria di Solo Sicoa 08 punto per come stava andando il tutto sembrava un po' tutto rivolto verso all'ennesima squalifica per non far perdere Solo Sicoa comunque quando sono entrati gli Usos con tanto di musica prevedibile che entrasse Owens e Zayn però magari potevano far finire tutto in cacciare invece fortunatamente no però non sei pronto si poteva voler dire che Solo Sicoa faceva vedere che in realtà era pronto però dai un segnale a Roma Reigns e fai vedere che Solo Sicoa in questo momento non è pronto per il Menevent uno squash match o un incontro breve comunque comunque una vittoria facile sì più che altro perché sei faticato così tanto con Solo Sicoa domenica con Reigns e in teoria non hai speranza esatto non hai speranza in teoria con quello bravo tra virgolette del gruppo cioè perdi cioè calcolo ovviamente basilare che non c'entra niente però comunque in ogni caso continuo capisco che nella Bloodline ma questo feticcio per Solo Sicoa che che è il feticcio che poi avevano a proposito di Solo Sicoa anche per Umaga che non ho mai capito nemmeno quello per Umaga figuriamoci quella del clone di Umaga se capisco cioè quindi proprio non ci arrivo proprio non ci arrivo che Umaga è lo zio se non sbaglio sì deve essere lo zio e faccio fatica poi a capire delle parentesi non sbaglio non sbaglio è lo zio Umaga chat è un parente dove essere se non sbaglio lo zio però appunto figuriamoci appunto non mi piaceva l'originale il clone di vent'anni dopo quasi cioè ancora meno quindi non però un po' più scasso vuole anche vorrei mostrato come fenomeno il padre di Rikishi vabbè è il fratello degli Usos quello sì 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 ma è Umaga deve essere lo zio se non sbaglio ora non mi ricordavo se Umaga fosse il fratello di Rikishi non mi pare di sì faccio una ricerca veloce ho un vuoto su questa cosa mi sembrava che fosse il fratello di Rikishi e niente vabbè un po' di Rikishi ha vinto come abbiamo detto più faticando più del previsto interventi di chi deve intervenire ecco cosa sto apprezzando del discorso sia Cody Rhodes Roman Reigns che Kenny Vinovins e Sami Zayn e Usos che non vogliono far capire perlomeno per arrivare prima a WrestleMania poi ci manca una puntata chi possa vincere l'incontro a prescindere da idee che abbiamo noi quello è un altro discorso però non vogliono far capire al momento aspettando ancora SmackDown chi possa vincere tra Usos che è Vinovins e Zayn e Cody Rhodes e Roman Reigns e questo hanno dato pochi indizi e pochi candidati hanno dato abbastanza pari merito e quindi fai ancora fatica oggi ad esempio sono entrati gli Usos uno dice vabbè allora che Vinovins e Sami Zayn hanno vinto il confronto no si stavano picchiando tra di loro sono andati nel backstage hanno soltanto impedito che entrasse entrassero nel ring basta non è un fatto te che sono corsati nel backstage sono andati al catering quindi in realtà nessuno ha vinto visto il Kevin Owens come attualmente direi di sì e niente poi è finita la puntata perché poi non c'è stato promo di Cody Rhodes o Eiman questo l'abbiamo passato all'inizio venerdì dopo l'ho capito c'è Reigns per fare un confronto anche perché almeno il giorno prima qualcosa devi fare ha fatto molto poco in realtà Reigns per questa faida hanno fatto due segmenti hanno fatto tra di loro questo sarebbe il terzo quindi non è stata costruita cioè ha dovuto fare tutto Cody Rhodes non è proprio come Teori Sina ma siamo lì alla fine fine no qua almeno aveva aveva Eiman aveva Eiman che faceva quasi da portavoce sì però ad esempio il primo promo quello che poi è stato molto bello quello tra Cody Rhodes e Eiman niente da dire però l'hanno incentrato tutto su Paul Eiman e Cody Rhodes di fatto sì ok e quindi bello ok però di fatto non Eiman che cazzarola dice ogni volta c'era e vabbè quello ha una tariffa limitata l'ennesima potenza e finisce così la puntata di Raw e però prima di terminare il tutto vi ricordiamo che questa settimana essendoci Brassermania noi faremo la maratona sabato maratona che durerà dalle due fino a fino a non sappiamo perché ora vi spieghiamo il motivo dobbiamo faremo la live reaction dalle sette in poi di Stand and Deliver e dopo Stand and Deliver facciamo i pronostici della serata uno sì no uno sì della serata uno di Brassermania quindi non sappiamo che ora possiamo finire noi speriamo per le undici immagino che duri dalle sette alle dieci il pay per view e in un'oretta anche meno riusciamo a fare i pronostici non lo so quello vediamo però può darsi che sia di più perché il pay per view dura di più lì non è non sappiamo quando sappiamo solo che cominciamo alle due ma non sappiamo come finisce e in mezzo esatto sanno quando iniziano ma non quando iniziano esatto esatto in mezzo avrete anche ci sarà durante la maratona la review di Smackdown che quindi a posto di farla sabato sera la faremo sabato pomeriggio per poi caricarla di fatto subito su YouTube in modo che vada in onda poi il giorno dopo la sera stessa poi vediamo come avevamo fatto per il discorso e come farete a fare i pronosti ci sono dico prima la card dei giorni ma al che vada li facciamo generali più o meno proprio il giorno stesso secondo me si sa un po' la card no? la card comunque esatto la card la card dei due giorni la dicono sempre non dicono l'ordine facendolo alle 10 è tipo qualche ora prima dello show quindi si sta facendo non danno l'ordine dei match ma la card di solito la dicono se non la dicono pazienza facciamo totali e amen quello che viene succede mica niente e quindi come dicevo metteremo la review di Smackdown al pomeriggio durante la la telecronaca la telecronaca durante la maratona e e poi parleremo un po' di WW2K sia 22 23 e soprattutto di Stand and Deliver perché poi comunque prima di arrivare a Stand and Deliver un pochettino ne parliamo meglio e basta ne più ne meno venerdì facciamo i pronosti ci distende il Deliver venerdì sera poi le varie review di Vrestelmania quello arriveranno come non si sa perché esatto come incastrare le cose ma però riusciremo a fare le riusciremo a fare le le review delle due serate di Vrestelmania ce la facciamo in qualche maniera ce la facciamo sappiate che sia io che Miki domenica praticamente siamo occupati quasi tutto il giorno quindi sarà un casino esatto però possiamo farcela io sono occupato anche sabato e quindi non riesco neanche a vedere Stand and Deliver in diretta è tutto un disastro per me io è facilissimo che devo guardare Vrestelmania tutto lunedì è facilissimo quindi non vediamo cosa succederà poi e niente abbiamo terminato così anche con gli annunci con la puntata grazie mille Miki grazie a te grazie alla chat grazie a chi ci ha seguito chi è qui nella chat su Twitch deve farci un po' di refresh e noi appariremo tra poco con un po' di just chatting che dovrete aiutarmi a prendere il fucile da cecchino su Ghost Recon così in intera a dopo ciao ciao No.